Allora, stasera cercherò di essere più breve dell'ultima volta. Abbiamo assistito tutti ai comizi iniziali, insomma all'inizio della nostra campagna elettorale. Eravate molti, visto molta gente ovviamente già schierata, molta schierata anche, diciamo, con la lista avversaria, dalla parte avversaria. Ed è anche giusto così. E poi ho visto anche qualcuno che immagino, spero, essere ancora libero, nel senso di non avere vincoli, di non sentire vincoli di parentela, di non sentire vincoli lavorativi o amicali, persone che magari siano interessate ad un discorso che abbracci in senso più ampio quello che può essere il futuro del nostro paese. Certo, non è stata una serata divertente, diciamocelo subito. Immagino i commenti che si saranno fatti e anche su cosa si sia spinto per magari denigrare, ma forse non è nemmeno il termine giusto, criticare. Insomma, quelle che possono essere state, ecco, le obiezioni al comizio, a questa apertura di campagna elettorale, è stata noiosa. Oggettivamente lo è stata. E perché lo è stata? Perché, fatto salvo il primo intervento, quello della sindaca uscente, e speriamo che venga riconfermata ovviamente, fatto salvo quello, appunto, poi c'è stato l'intervento più corposo che è stato quello di Antonio, per il quale non lo invidio affatto, nel senso che a lui è toccato il peso di dover sciorinare una serie di numeri fondamentali, importanti, ma oggettivamente noiosi. Ovviamente non pensate che lui non avesse voglia di dire altro o che non avrebbe fatto un comizio diverso, ma il suo ruolo, quello di amministratore uscente, era anche quello di porre delle basi di discussione concrete, perché chiaramente ognuno di noi parte con una visione e ci mancherebbe altro, però se quella visione che si vuol proporre non poggia su basi concrete, apro e chiudo parentesi, non sono in polemica con la compagina avversaria che nel nome ha visione, è un termine cui non faccio fatica a trovarne un altro assimilabile, chiusa parentesi. Come dicevo, ognuno di noi avrebbe da dire tanto, ma se non ha basi concrete sulle quali far crescere questi progetti diventa tutto più complesso. E quindi Antonio ha detto quello che è stato, quello che è, perché ci sono fondi che sono stati già utilizzati, sono stati già spesi, opere già realizzate, e c'è una buona parte in itinere o in progettazione, ci sono delle richieste che sono state avanzate, come lui faceva presente, nonostante la nostra piccola realtà, dal punto di vista della richiesta, è proprio per essere semplici, dello spendere i soldi, quello di cui tanto si parla, quante volte avete sentito anche per televisione, ah, perché i soldi ci sono, ma non siamo capaci a spenderli, ah, ci sono, ci sono, ma non siamo capaci a spenderli, beh, noi qua magari possiamo essere criticati, possono essere criticati, perché io entro adesso nella compagine che si appresta a partecipare a queste lezioni, comunque possono essere criticati per alcune opere, difficilmente possono essere criticati per il fatto di non averle sapute finanziare, i soldi sono oggettivamente arrivati, e voi avete visto anche quanti, magari al netto della noia, ecco, si potrebbe andare da Antonio a dire, io ti contesto questo perché non mi piace quello che hai fatto, quello che può essere stata la tua priorità, benissimo, dire non mi piace perché non sei stato capace di farlo, è altra cosa, diciamo che l'amministrazione uscente può essere accusata di tante cose, del non aver saputo portare a termine i propri programmi, i propri progetti, beh, insomma, diventa complicato, ciò premesso, chiaramente leggevo, non ricordo di preciso, probabilmente sul post, su un articolo sul post o una cosa del genere, si parla di progetti riguardanti il turismo, ottimo, ovviamente non si può non concordare sul fatto che la nostra materia prima, l'avena d'oro che ci è toccata in questa miniera che può essere il nostro territorio, è quella del turismo, siamo perfettamente d'accordo, però il turismo, su cosa lo fondi, su cosa lo basi, come fai ad attirare le persone se non offri servizi, è ovvio che sentirsi parlare dell'allargamento della strada, piuttosto che della fogna, non è città gli animi più di tanto, però il problema è che è necessario, perché non vale solo il discorso turistico, io faccio un esempio stupido, lo rifaccio abbastanza spesso, quante case avete? Insomma, adesso chi è più giovane di me, probabilmente ne erediterà tre o quattro, cose di questo tipo, cioè c'è una media su Savoia che è impressionante per case di proprietà, ecco, queste case, se non c'è domanda, non valgono niente, cioè quelli sono soldi effettivi che entrano o escono dalle vostre tasche in base alla domanda e per ottenere domanda è necessario offrire servizi, perché se il paese diventa un paese fantasma voi ci perdete, si perdono soldi, quindi è necessaria la strada, è necessaria la fogna, è necessario qualsiasi il ripristino di un cantiere che riguardi l'irrigazione, per cui uno dice sì, è stupido, ma cosa ancora? Sono necessaria, sono necessaria perché comunque il futuro è in qualche modo legato anche al passato, nel senso che sempre di più si spostano dai grandi centri, e lo state vedendo, per quanti pochi noi abbiamo avuto delle entrate, nel senso delle persone che sono venute ad abitare qui da noi, da centri urbani più grandi, oppure che comunque hanno preso casa per passarci del tempo, altrettanto c'è un turismo magari anche di nicchia per adesso, che però ricerca le comodità della città in un paesaggio che sia di tutt'altra specie, e questo è necessario, internet. Uno pensa, dice, ma internet magari è l'ultima delle sciocchezze, era meglio se mi avessero portato il camion di misto davanti casa, certo, sicuramente, poi anche su questo vanno valutate le varie responsabilità, però in ogni caso, internet internet per il ragazzino, la ragazzina che viene con i genitori qua può essere, non dico un punto d'attrazione, però nel caso non ci fosse, potrebbe essere un difetto, dice, ma dove mi hai portato? Per cui noi dobbiamo crescere in quel senso. Come dicevo, non invidio per questo l'elenco che è toccato Antonio, gli invidio la capacità, ma questo è un altro discorso, nel senso che fossi in grado io da me di fare quel tipo di percorso, cioè di sapere a quali porte bussare, avere la credibilità anche per farmi aprire, avessi tutte queste qualità, probabilmente mi sarei mosso anche da solo, difficile, però magari avrebbe avuto un senso. non avendole e non avendo la presunzione di non riconoscerle ad altri, ho deciso, come dicevo, di partecipare a questa avventura, come dicono i giovani, giovani, nemmeno tanto, comunque, di partecipare a questa impresa provando a propormi per l'ennesima volta, come dicevo, alle persone vivere, a quelle che non hanno vincoli di parentela, di amicizia, che sono poche, che sono poche e che comunque magari potrebbero avere delle simpatie rispetto al mio modo di essere, al mio modo di fare, al mio modo di vedere le cose, perché chiaramente ognuno porta all'interno di un'esperienza di gruppo la propria esperienza, per cui se a qualcuno dovesse interessare il modo in cui vedo io il mondo, spero che mi dia un cenno, ecco, questo è il passaggio personale rispetto allo spot, dopo di che volevo rimediare ad una mancanza che ho avuto nel primo video, che è quello di augurare alla lista avversaria insomma l'altra compagine a partire dal candidato sindaco Rocco Mastroberti a tutti e tutte le candidate e i candidati di augurare una serena e buona campagna elettorale in cui comunque sarà necessario non perdere di vista il fatto che siamo 6-700 persone per cui il giorno dopo la campagna elettorale ci si vede tutti al bar comunque e sarebbe triste non guardarsi in faccia per cui buona campagna elettorale auguri comunque vada e comunque vada dal giorno dopo speriamo che quello che vinca sia realmente il nostro paese ciao